Musica Amici e amiche di Fossano e di tutta la diocese di Fossano, ci siamo, ci siamo. Stiamo per entrare nella storia di questo santuario, stiamo per celebrare i 500 anni dell'apparizione della Madonna qui a Cussagno, l'apparizione a Bartolomeo Coppa. Di cuore, cordialmente, vi invito proprio tutti, tutti a essere presenti, a non perdervi questa occasione unica di essere anche voi nella storia di questo santuario, che ha una storia di fede, a una storia di relazioni, a una storia di umanità grande. Noi non vogliamo perderla, vogliamo farla nostra, vogliamo rilanciarla tutti insieme. Cussagno, il santuario di Cussagno e dei Fossanesi e di tutta la diocese di Fossano, a voi in modo particolare, il mio cordiale invito ad essere presenti. Grazie. 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 Grazie.